Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 45 a 56. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Lazaro, credettero in Lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero, che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in Lui. Verranno i Romani e distruggeranno il nostro Tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quello anno, disse loro, «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, quello anno profettizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei, e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù, e stando nel Tempio, dicevano tra loro, «Che ve ne pare non verrà alla festa?». Parola del Signore. Ecco, carissimi, abbiamo questo brano che ci racconta proprio la conclusione, diciamo così, la conclusione da parte dei Giudei per uccidere Gesù. Ormai la sua sorte, la sorte di Gesù è sigillata, deve morire. I Giudei avevano paura di Gesù, perché avendo una fola dietro di lui, poteva vincere le elezioni. Dunque, i Giudei facevano come una lettura politica di tutta la missione di Gesù. Per loro Gesù era come un Messia politico, colui che viene a liberare il popolo, non con la mano del Signore, ma con la mano umana, fare le rivoluzioni e tutto quanto. Allora, i Giudei hanno preferito uccidere lui, che di vedere i Romani venire e distruggere tutta la nazione. Ma Caifa, con l'ispirazione dello Spirito, ha detto no, è lui che deve morire e risparmiamo tutto il popolo. Ma dicendo così, Caifa annuncia la missione o il perché Gesù deve morire. Gesù morirà per salvare la nazione, ma anche per riunire il popolo di Israele spesso attraverso il mondo. Come l'abbiamo sentito nella prima lettura di questa liturgia, il profeta Ezechiele, che Dio ha promesso di venire e ragionerà tutto il popolo per formarne un popolo solo. Ecco, carissimi, ciò che ci racconta il brano di stamattina. Dunque, Gesù ormai deve morire per forza. La sorte di Gesù è vero, è per la nostra salvezza, la sua morte è per la nostra salvezza. Ma notiamo che Gesù non ha mai avuto paura di tutto ciò che si diceva intorno a lui. Non si è mai fermato per continuare la sua missione, perché essendo nella verità, non si è mai taciuto, non si è mai fermato, ha continuato. Penso che per noi oggi, che crediamo in Cristo, nel momento in cui parliamo della nuova evangelizzazione, credo, non dovremmo anche tacere, al di là di tutto ciò che potrebbe succedere nel nostro cammino, nella nostra missione. E quando parliamo di evangelizzare, non si tratta soltanto di prendere la Bibbia e poi proclamare la parola di Dio. Questa è la fonte. Ma l'evangelizzazione parte anche dalla testimonianza, soprattutto la testimonianza. E' la testimonianza di Gesù che ha spinto, diciamo, che ha spinto il popolo a credere in lui, perché anche questo fatto ha creato il timore, la disperazione da parte dei giudei. Tutti crederanno in lui, perché compie tanti segni. Ecco, i segni di Gesù hanno aiutato la gente a credere in lui e a seguirlo. Ecco quello che noi potremmo e dovremmo fare per proclamare Cristo, la nostra testimonianza. Ti manca solo il coraggio. Abbiamo troppo paura di parlare di Dio o di Gesù, ma rivestiamoci del coraggio. Diamo buona testimonianza. Carichiamoci di tutta la forza dello spirito per proclamare Cristo con le parole e con i fatti. Solo e soprattutto con i fatti che noi trasmetteremo Cristo agli altri, come lo diciamo spesso. Visto che Gesù muore per radunare tutto il popolo, anche noi lottiamo per creare l'unità tra di noi, l'unità in famiglia, l'unità tra gli amici. Creiamo l'unità, l'amore, la pace, la comunione, al di là delle nostre differenze. Creiamo questa l'unità. Ci manca l'unità oggi. Quante famiglie sono distrutte. Quante famiglie. Quante persone vivono da sole, non hanno più un contatto. Ecco, questa è l'opportunità. Nel nome di Cristo creiamo l'unità. Ci sacrifichiamo per creare l'unità intorno a noi. Non giudichiamo solo gli altri. Non condeniamo solo gli altri. Non puntiamo solo un dito che è colpa degli altri. Lasciamo la colpa. Prendiamo l'iniziativa. Sacrifichiamoci. Andiamo a creare questa unità. Quanto è bello vedere i fratelli vivere insieme, dice il San. Allora, vi auguro una buona e santa giornata. Che questa Pasqua sia una Pasqua proprio di unità. Allora, vi auguro una buona e santa giornata.